Lo sapete, cani, che c'è stata una storia interessante di un cane speciale, si chiamava Luce. Cia-to. Un giorno ha disegnato tanti disegni bellissime, e uno di questi disegni era molto speciale, perché consisteva una strada di un piano volante e un pulcino speciale, che camminava su questa strada musicale. Ecco... Pianista... Allora, un musicista ha preso i disegni e ha fatto un cd. Cd ha un'associazione per i bambini disabili. Wow! Allora, questa associazione che si trova a Roma. Bene. Ha invitato la madre di questo ragazzo in Roma. È stato invitato un pianista che ha suonato una splendida musica. È stato invitato un pianista russia che ha suonato una splendida musica. E così hanno ringraziato il cane cartonista per il suo bellissimo disegno. Grazie. È stato molto bello, ma il cane speciale è rimasto a casa. Non ha visto l'evento. Esiste e tenuto di Roma. Questo bellissimo cd... Si chiamava... Happy Piano To You! Yeee! Evvivo! Piano To You! Piano To You! Celta Tu 그래! Abbasi ho finito di secondly towns. Cosa volto? overlaymireazione Insitare questo problema. Grazie a tutti